Buon packaging a tutti! Oggi vi spieghiamo come abbiamo risolto un grandissimo problema di un nostro cliente. Azienda ceramica, reparto campioni, spedizione di prodotti molto leggeri, fragili e da stabilizzare. Il cliente utilizzava una macchina per la termoretrazione, confezionando completamente il pallet attraverso un forno. Abbiamo risolto il problema attraverso la fascia pallet PKG Saving Machine con le opportune modifiche. Piatto di rotazione diametro 1.650 per firmare anche pallet 100x120 dotato di una speciale vernice anti scivolo proprio per evitare che il pallet giri su se stesso. Carrello MPS ad alto allungamento dell'estensibile con la possibilità di variare la percentuale di prestiro da 150 a 250 per cento. Inoltre possibilità di interrare la macchina utilizzando appositi scivoli per caricare il pallet senza l'utilizzo di una rampa o eventualmente di un carrello elevatore. Questo ci ha permesso di risolvere tre problemi. Un problema di ingombro in quanto il cliente aveva un forno per la termoretrazione che occupava circa 10 metri quadrati del reparto. Un problema economico in quanto abbiamo più che dimezzato i costi di consumo energetico in essere e un problema ecologico. Abbiamo abbattuto drasticamente l'utilizzo della plastica o polietilene in gergo in quanto veniva utilizzato uno spessore 150 micron in termoretrazione. Noi andremo ad usare un estensibile in 15 micron ad alto allungamento con l'ausilio di un foglio di copertura in polietilene rigenerato. Questo è quello che facciamo con passione tutti i giorni, soluzione nel mondo del packaging. Rimanete in ballo con noi!